Grazie a tutti. Si parte, ecco il Bayern che gioca il primo pallone. Ecco la formazione titolare del Barça. Scelgono di giocarsi all'avviso aperto, vanno in campo tre giocatori d'attacco, di cui due in posizione defilata e ovviamente una prima punta. 4-3-3, classico utilizzato anche in Italia da parecchie squadre, è sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Ecco gli undici del Bayern. Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Il pistolero Luis Suarez proverà anche oggi a fare cose importanti e magari anche a trovare la via del gol. La sua presenza in campo è quasi sempre garanzia di gol. Lewandowski! Grande intervento nel portiere. Palla in out, calcio all'angolo per il Bayern. Attenzione! Tira il respinto dal difensore. E c'è l'intervento dell'arbitro. Messi! Il portiere in presa sicura. Sarà dunque rimessa laterale per il Barça. Neymar. Si avvicina all'area. Cercano spazi. Palla in mezzo verso Suarez. Ci sarà la rimessa dal fondo. Lamp. Punta l'area. Con questa palla punta la porta. Lewandowski! Occhio al tiro di Robben. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversaria. C'è il traversone. Portiere sulla traiettoria. Nessun problema. Vidal. Fermano la manovra avversaria. Iniesta. Rakitic. A metri a disposizione. Suarez! Ottimo intervento nel portiere. Azione interrotta. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Ci sono metri a disposizione. Sergi Roberto. Arbitro che ha fermato il gioco. Sarà punizione contro il Barça. Grande chiusura difensiva. Neymar. E' stato fermato dal difensore. Ottimo il pallone filtrante. Rakitic. Grande intervento del portiere. Si ripartirà con il corner. Occhio di testa. Buona la parata in presa da parte del portiere. Buon possesso palla. La caccia di spazi. Alla in area. Cross che viene intercettato dal difensore. Bravi qui a bloccare tutto. Lewandowski. C'è spazio per andare. Ha un'autostrada a disposizione. Lewandowski. Gol fondamentale che spezza l'equilibrio della gara. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Iniesta. Vidal è al posto giusto. Ha perso il pallone. Baragna metri verso l'area. Neymar. Rete. Splendida rete. Nemmeno il tempo di esultare per il gol segnato che hanno subito immediatamente il pareggio. Palla perfetta nell'angolo calcolato al millibro. Impossibile da prendere. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Robben. Cercano di aprire la difesa avversaria. Cerca la rete. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Occhio al traversone. Ottima la lettura difensiva. Rakitic. Iniesta. Lewandowski. C'è spazio davanti. Robben. Sono avanti di un gol. Grazie a questa rete. Il Bayern ha trovato il gol poco prima del fischio dell'arbitro e della conclusione della prima frazione. Il tiro. La sensazione è che se il recupero fosse stato più lungo, magari ne avrebbero fatto un altro. Baragna metri. Tre i minuti da recuperare. Iniesta. E il pallone finisce il gol. Avrebbero dovuto amministrare meglio il vantaggio. Brava comunque la squadra avversaria a non abbattersi e a rispondere immediatamente al gol subito pochi istanti prima. Il calcio è davvero strano. È arrivato inaspettato. Il gol del pari. 2-2. Bella partita. Parità assoluta. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Vidal recupera il pallone. L'arbitro manda le squadre. Secondo tempo che comincia con il Barcellona in possesso di palla. Palla schizza via dopo il contrasto. Vidal. Il Bayern prova a spingere in avanti. Fermano la manovra avversaria. Neymar. Suarez. Rakitic. Comanda. La mette in area. Il recupero sul pallone. Neymar. Ci sono metri a disposizione. Perde palla. Comanda. Lewandowski. Si ricomincia con il Bayern che ha questa rimessa laterale. per calare di rigore. Ottimo intervento del difensore. Busquets. E il pallone se ne va via. Palla che termina in out. Sarà fallo laterale. Punta l'area. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Ottimo intervento. Messi. Palla riconquistata dal Bayern. Attenzione al tiro. Contiere che blocca il tiro. Bravo qui. Busquets. Ha intercettato bene il passaggio. Non ci voleva molto. Arbitro che fischia il pallo. Ai danni del Bayern. Artiglia bene il pallone. Occhio al suo movimento. Iniesta. L'idea era servire Messi. Premia la corsa sulla fascia. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo. Consentendo alla difesa di respirare. Occhio. Si libera facilmente nel marcatore. Troppo facile andargli via. Messi. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversaria. Cerca i compagni. Traversione che viene intercettato. Si schiera la difesa del Bayern. Per fronteggiare questo calcio d'angolo. Sarà rimesso dal fondo. Ottimo il recupero di Suárez. Guadagna metri verso l'area. Facile qui la parata del portiere. Sulla conclusione da fuori. Iniesta. Cercano di aprire la difesa avversaria. Palla vagante. C'è spazio per andare. Vidal. Murato dal difensore. Refringe il pallone di pugno. Passaggio sbagliato di Jordi Alba. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Come sono schierati in campo. Arbitro che fischia il pallo a favore del Bayern. Questo è il dato sul possesso palla. Conferma l'equilibrio che si è visto in campo. Nessuna delle due squadre sembra riuscire a prevalere nettamente sull'altra. Almeno finora. Arbitro assegna il vantaggio al Bayern. Tiago Alcantara. E' punizione. Posizione invitante. Buona l'idea. Senza problemi però il portiere. Rimessa con le mani. Decisiva la deviazione. Alaba. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Palla recuperata. Azione interrotta. Palla in mezzo dopo un buon intervento. 600 secondi da giocare ancora. Manca poco al termine della gara. Partita non è ancora chiusa. Vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Lamp. Arda Turan. Perde palla. C'è la norma del vantaggio. Attacca il Bayern. Voleva sorprendere la difesa ma qui è finito in offside. Suarez. Andre Gomez. Baragna Metri. Occhio alla ripartenza. Andre Gomez. Grande intervento del portiere. Situazione interessante ma c'è fuori gioco. Qui poteva davvero cambiare la partita. Si si era liberato bene ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Da lì avrebbe potuto concludere a rete. Ancora tre minuti prima del fischio finale. Capisce tutto Umbels. Il Bayern prova a spingere in avanti. Affermato all'ultimo. Quando tutto sembrava perduto l'azione avversaria qui è stato bravissimo. Eh sì, non c'erano più speranze qui. Ci saranno tre minuti di recupero. Attenzione al Barça che prova. Arbitro che fischia il pallo ai danni del Bayern. Palla nuovamente in possesso. Lo ferma ma non controlla. Coman. 2 a 2 dunque alla fine della partita. Questo pareggio significa salvezza per loro. Stefano. Forse puntavano più in alto a inizio stagione ma la riconferma.